Una reggia di caserta così non l'avete mai vista. I gialdini della villa tra le più famose mete turistiche e campane d'Italia trasformati per un giorno in campi da golf. La Kermess Caserta Golf City Challenge ha portato alla reggia vanvitelliana appassionati di golf o semplici curiosi di questo sport elegante e raffinato che hanno potuto assistere alla gara tra due golfisti di fama internazionale Lorenzo Gagli e Veronica Zorzi che si sono sfidati lungo l'affascinante percorso di 5 buche che vanno dall'apertura della reggia al giardino all'italiana dalla fontana di Eolo a quello dei delfini fino ad arrivare al giardino delle arti. Ma gli spettatori non si sono limitati ad assistere per loro infatti gli organizzatori hanno messo in campo lezioni speciali di golf con la guida di maestri e professionisti trovando l'emozione unica di giocare nella suggestiva cornice della reggia di Caserta. Ascoltiamo il direttore di torneo Davide Lantos. Un progetto interessantissimo più che altro per far conoscere il golf in una regione dove onestamente non è ancora troppo sviluppato ma forse anche in una nazione in cui c'è bisogno che questo sport si sviluppi ancora di più rispetto a quanto comunque molto egregiamente sta facendo la federazione in questi ultimi anni. E quindi avvicinare delle persone che non hanno mai avuto contatto con questo sport in uno scenario del genere è stata sicuramente un'idea che può essere vincente. Iniziative del genere servono anche a lanciare via le polemiche e provare a restituire alla reggia un'attrattiva maggiore. Il tutto con il plauso delle istituzioni come conferma il sindaco Pio del Gaudio. Soprattutto fanno conoscere la reggia perché questo è un monumento che per quanto bello, per quanto fantastico deve uscire dal monumento, deve essere sempre più fruibile e purtroppo oggi è un dato che il turismo in quanto tale semplicemente culturale arriva a dei livelli ma poi si firma. Per cui bisogna andare oltre e voglio dire lo scenario che io ho la fortuna di vedere in questo momento è che vedranno gli appassionati, è uno scenario fantastico.